Se state cercando un'alternativa a migiurni valida e soprattutto che al momento sia gratuita, in questo video vi spiego passo passo come accedere ed utilizzare il miglior generatore di immagini attualmente disponibile, si chiama Leonardo EI, vi mostrerò quindi come accedere a Leonardo e ottenere l'accesso anticipato per iniziare a creare incredibili opere d'arte con l'EI. Ma prima di iniziare, se ancora non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video, escono ogni domenica alle 12 in punto. Mi raccomando! Leonardo offre una delle interfacce più fluide tra tutti i generatori di immagini EI, tutti gli strumenti sono accessibili e facili da comprendere. Leonardo poi è gratuito da utilizzare, con 150 crediti disponibili al giorno per creare immagini e un periodo di prova gratuito anche delle funzioni più avanzate. Come regola generale un credito equivale a un'immagine, quindi se generiamo 4 immagini costerà 4 crediti. La quantità di crediti necessari per creare un'immagine però dipende anche dalle dimensioni dell'immagine e dal modello utilizzato. Ci sono tre strumenti diversi che possiamo utilizzare, la generazione classica di immagini, EI Canvas e generazioni di texture. Ma come accedere a Leonardo EI? Beh, per cominciare vi basta cercare su Google Leonardo EI nella barra di ricerca. Clicchiamo sul primo risultato per accedere alla home page del sito. Una volta sulla home page vi verrà mostrata la possibilità di ottenere un accesso anticipato esclusivo. Inserite la vostra email nell'apposito campo e non vi resta che attendere l'email di conferma. Nell'email che vi arriverà troverete ulteriori istruzioni su come completare la registrazione. Compilate il modulo con i vostri dati, assicurandovi di utilizzare la stessa email con cui avete richiesto l'accesso anticipato. Una volta ottenuto l'accesso a Leonardo EI vi troverete nella pagina principale. Qui potrete vedere le varie funzionalità che la piattaforma offre. Nei featured models possiamo esplorare i modelli preesistenti. Questi servono da base per la generazione delle nostre immagini. Ad esempio, selezionando il photo real, l'output generato sarà più simile ad una foto realistica, mentre scegliendo 3D animation style come base l'immagine sembrerà tratta da un tipico film di animazione e così via. Ogni modello ha una propria parola chiave che attiva la sua funzione. Se siete interessati all'aspetto più tecnico, avete la possibilità di addestrare i vostri modelli di intelligenza artificiale inserendo le vostre immagini personali. Basta cliccare sul menu a sinistra la voce Training e Data Sets. Qui potete creare modelli basati su immagini specifiche che avete selezionato. È un'opzione avanzata che può essere particolarmente utile per chi desidera affinare ulteriormente le proprie creazioni. Fatemi sapere se volete approfondire questo tema qui sotto nei commenti. Torniamo alla home e qui in basso possiamo vedere degli esempi di lavori creati da altri utenti. La sezione community feed è utile non solo per conoscere le potenzialità di Leonardo AI, ma anche per trovare ispirazione per i propri lavori. Cliccando su un'immagine che ci piace infatti possiamo copiarne il prompt per riutilizzarlo noi stessi, remixare il prompt con i nostri parametri o addirittura prendere l'immagine come riferimento per creare variazioni simili a quella generazione. Nel menu a sinistra, oltre alla community feed per visualizzare le ultime creazioni degli altri utenti, possiamo accedere al nostro feed personale, dove invece abbiamo uno storico di tutte le creazioni realizzate da noi. Infine troviamo la sezione fine tune models. Oltre ai modelli che abbiamo già visto nella home page, qui troviamo anche quelli sviluppati da altri utenti della community, i nostri se li abbiamo creati e infine quelli che abbiamo aggiunto tra i preferiti, così da ritrovarli più facilmente. Dalle esplorazioni di modelli esistenti all'addestramento dei propri modelli personali, questa piattaforma offre un mondo di opportunità creative. Ora però è arrivato il momento di imparare come utilizzare il generatore di immagini di Leonardo EI. Il primo passo è spostarsi sul menu in basso a sinistra e selezionare uno degli strumenti presenti su User's Tools. Cominciamo con la caratteristica più popolare, generare immagini con l'EI. Per accedervi clicchiamo su EI Image Generator e vedremo apparire un nuovo menu a sinistra con moltissime opzioni tra cui scegliere, ma non vi preoccupate, le vedremo una a una tra poco. Partiamo con il riquadro centrale in cui è possibile scrivere il prompt testuale. Se avete usato altri generatori ormai dovreste sapere come funziona, potete specificare i dettagli che volete nell'immagine come soggetti, colori, atmosfera e molto altro ancora. Queste indicazioni aiuteranno l'EI a comprendere la vostra visione creativa. Il secondo passo è scegliere un modello su cui deve basarsi la generazione. Proprio sotto al riquadro di testo potremo scegliere uno dei modelli disponibili. Ogni modello ha le proprie caratteristiche e stili unici che influenzeranno l'aspetto finale dell'immagine generata. Il prompt negativo, invece, serve ad omettere alcuni dettagli che l'EI potrebbe aggiungere, controllando così ulteriormente il risultato della generazione. Ora passiamo al menu laterale. Ci sono moltissime impostazioni disponibili all'interno di Leonardo. Subito in alto a sinistra troviamo il numero di crediti rimanenti per la generazione di immagini. Se utilizziamo la versione gratuita avremo a disposizione, come abbiamo detto 150 crediti al giorno, ma se non ci bastano possiamo sempre fare l'upgrade e scegliere uno dei piani a pagamento. Ci sono soluzioni sia mensili che annuali. Subito dopo troviamo il numero di immagini. Qui selezioneremo quante immagini vogliamo generare contemporaneamente con lo stesso prompt. PhotoReal è una funzione ancora in beta che permette di generare foto iperrealistiche e ritratti cinematici. Attiviamola se vogliamo portare un forte tocco di realismo al nostro lavoro. Se clicchiamo invece su Prompt Magic si disattiverà automaticamente PhotoReal e in questo caso potremo usare una versione del render con un'aderenza maggiore al prompt e una fedeltà alta di immagine, ma ovviamente con un risultato meno fotorealistico. Poi abbiamo Alchemy. Anche questa è una nuova funzionalità beta di Leonardo, che porta una generazione di immagini ad altissima fedeltà e coerenza a tutti i modelli di piattaforma esistenti. Immagini pubbliche permette di rendere visibili le generazioni al pubblico. La disattivazione però richiede un piano a pagamento. Con Image Dimensions scegliamo le dimensioni che dovranno avere le generazioni. Possiamo scegliere tra quelle predefinite o impostare dimensioni personalizzate di altezza e larghezza. E in basso possiamo cambiare anche il rapporto d'aspetto. Con Guidance Scale decidiamo quanto deve pesare il prompt nel risultato finale. Control Net invece permette di influenzare le generazioni con le immagini caricate. Tiling invece permette di creare texture o sfondi che si ripetono. Infine qui sotto abbiamo il prompt immagine. Qui possiamo caricare le nostre immagini dal computer o utilizzare le generazioni già ottenute per poter influenzare gli output delle immagini future. Image Prompt utilizza un'immagine di riferimento per influenzare lo stile e l'aspetto dell'immagine generata, mentre Image to Image genera immagini basate sull'immagine iniziale, consentendo di controllare il livello di preservazione degli elementi originali. In ultimo a prima vista potrebbe passare in osservato, ma qui vicino alla generazione delle immagini abbiamo un'altra opzione chiamata Prompt Generation. Questo strumento permette di sviluppare idee di prompt più complesse partendo da un prompt semplice. Ad esempio se inseriamo Home ci proporrà una serie di concetti più complessi che includono una casa. Bene torniamo alla Home ed esploriamo due strumenti disponibili su User Tools. L'AI Canvas consente di correggere i dettagli, modificare stili, estendere il contenuto, creare composite e fotomontaggi attraverso tecniche di in-painting e outpainting. Diamo un'occhiata veloce ad alcune delle caratteristiche disponibili sulla Canvas. Per aggiungere un'immagine alla tela clicchiamo sul pulsante Upload Image nella barra degli strumenti a sinistra. Possiamo caricare un'immagine dal PC, selezionare un'immagine generata in precedenza o anche qualcosa dalla community feed. Quando l'immagine verrà caricata potremo iniziare a modificarla. Per spostare gli elementi si utilizza lo strumento Select. Per modificare le immagini invece possiamo utilizzare Draw Mask o Erase nella barra degli strumenti. Mascherare un'area conserva parte del soggetto e dello stile sottostante rendendolo ideale per i ritocchi, mentre Cancellare un'area rimuove parti indesiderate che poi potremo sostituire. Per scegliere l'area di lavoro basta spostare il riquadro sulla zona da modificare. Dopo aver apportato modifiche con tutti questi strumenti basta inserire un prompt per l'immagine e cliccare sul pulsante Generate. Cliccando sull'icona qui a fianco possiamo anche utilizzare il prompt negativo per dire all'EI cosa non generare. Una volta generata un'immagine potremo sfogliare le diverse variazioni utilizzando i pulsanti freccia sotto la cornice di generazione. Il pannello a destra invece consente di regolare le impostazioni e i parametri per la generazione come la selezione del modello, il numero di immagini, regolare le dimensioni delle immagini, la scala e così via. Ognuna di queste impostazioni influisce sul risultato della generazione, sperimentate quindi fino a ottenere il risultato desiderato. Infine abbiamo la Texture Generation con la quale possiamo creare intere texture caricando un modello 3D. Inseriamo un prompt di testo e la texture viene automaticamente creata e proiettata sulla mesh 3D. Questo processo è completamente consapevole del contesto e rispetta le mappe UV esistenti rendendolo ideale per texturizzare assets per giochi o altre applicazioni che richiedono modelli 3D texturizzati. Prima di applicare completamente la texture al modello questo strumento genera delle anteprime di rendering in modo da testare i prompt e assicurando che lo stile sia in linea con la vostra visione. Una volta soddisfatti poi si procede a generare la texture completa, risparmiando quindi tempo e sforzi. Le texture sono scaricabili e facilmente integrabili in strumenti come Blender, Unity o altre applicazioni. Infine riporto le risposte alle domande più frequenti presenti sul sito di Leonardo.iei. Tutti i contenuti generati attraverso l'utilizzo della piattaforma Leonardo.iei diventano di vostra proprietà. Quindi come utenti della piattaforma possedete completamente tutto ciò che generate utilizzando questo sistema. Se avete intenzione di utilizzare le immagini generate dalla piattaforma per scopi commerciali, siete liberi di farlo. Questo vale sia per gli utenti che utilizzano la piattaforma gratuitamente che per quelle a pagamento. Avete il diritto di sfruttare le immagini generate per le vostre attività commerciali senza restrizioni. Bella notizia no? Inoltre con il piano a pagamento avete il completo controllo sulla visibilità delle immagini che create. Potete decidere se renderle pubbliche o private. Se le impostate come pubbliche saranno visibili agli altri utenti e potrebbero essere utilizzate da Leonardo.iei per scopi pubblicitari o miglioramenti. Al contrario, impostando le immagini come private, evitate che altri utenti o Leonardo.iei possano accedervi o utilizzarle per altri scopi. Avete anche la possibilità di eliminare le immagini o i modelli che avete generato. Ma tenete a mente che se avete addestrato un modello pubblico e questo diventa popolare, potrebbe diventare permanente sul sito web. Questo significa che non potrete più eliminarlo né rientrerà nel limite massimo di modelli consentiti. Per evitare questa situazione potete mantenere i vostri modelli privati e gestirne l'eliminazione a vostra discrezione. E con questo spero che il tutorial vi sia stato d'aiuto e vi abbia ispirato a esplorare liberamente tutte le possibilità offerte da Leonardo.iei. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate già questa piattaforma e se avete altri suggerimenti su argomenti riguardanti l'ei di cui vorresti che parlassi in futuro. Nel frattempo vi do appuntamento alla settimana prossima con un nuovo video. Ciao! Ciao!